tenta la soluzione da fuori gran botta di me ne sto palla alta controllata da marcheggiani lo del caudio botta forte ci mette i pugni marcheggiani e la alza da quest'altra parte seferi controlla e poi destro vita protegge il primo palo frizzante partita all'empire nuovo corner stavolta ad uscire lo batterà sempre battaglia ad uscire celiani vola vita e caccio d'angolo di nuovo buona parata del numero uno coperto il suo palo nuovo angolo il terzo consecutivo testa di celiani ancora vita e quarto angolo consecutivo si apre il duello tra il numero 11 celiani e il numero uno vita tre passi capitano marino finta di battaglia marino va verso la porta passa il pallone stavolta in decisione di vita gol del capitano marco marino ottavo in campionato torna il gol in casa dopo quello all'ancos vantaggio la pisana la miglior difesa del campionato insieme a celiani aria di rigore celiani pallone che passa ma non varca la linea lo salva stante occasione del 2 a 0 per la pisana stante attaccato da celiani spazia il pallone ma dalle parti di oliva c'è il break prova l'un sinistro celiani prova a correggere ma la mette sul fondo oliva marrocco può tentare la gran botta vita se la perde ma poi la schiaffeggia vediamo che soluzione marrocco forte una bomba sul palo di vita 2 a 0 gol di marrocco primo gol in campionato per lui raddoppio la pisana gallo che poi allunga la zampa interviene marrocco attenzione può pensare al destro generosamente va da battaglia sinistro del numero 8 balla in calcio d'angolo procopio pulisce l'aria giacinti svircola felici in aria controllo rovesciata cosa stava facendo diego felici anastasio potrebbe entrare anche lui il lampo marchegiani blocca a terra ciccolotti in aria di rigore mecozzi mecozzi incrocia al sinistro ma non prende la porta protesta di benedetti voleva una trattenuta su celiani si alimenta l'azione del casalotti tiro di salvetta parano i tempi marchegiani mirante può pensare al sinistro lo prova gran botta mette i pugni vita non c'è falo di celiani si prosegue battaglia sinistro di battaglia mette i pugni ancora vita converge va sul destro si prosegue per il vantaggio celiani palla in buca d'angolo andrea celiani 3 a 0 quarto gol nelle ultime tre partite dopo la doppietta all'ancos e quello alla pizzeria claudio e claudio partita praticamente in ghiaccio e felici va il numero 10 c'è gloria anche per marchegiani che mette i pugni e la panda nei campi di padel stop! dice il direttore di gara vince ancora la pisana è il settimo risultato utile consecutivo in casa è la quinta porta in battuta del campionato la terza consecutiva per il casalotti è un'altra brutta sconfitta